Siamo stati, secondo me, un po' sofferto all'inizio, ma poi abbiamo preso un po' il Manuel Redini del gioco contro una squadra difficilissima da affrontare nel proprio campo, con un grande pubblico a cui voglio fare espressamente e personalmente i complimenti, perché si vede poche volte retrocedere una squadra per un atteggiamento del genere e penso che sia questo una conquista di questa terra di positività e di atteggiamento. Mi auguro che si possa ripetere successivamente quando si vede una squadra come il Frosinone che oggi ci ha messo in difficoltà, che ha dato tutto per poter vincere la partita come giusto che sia e devo dire che ha dato un bellissimo segnale. Noi invece dobbiamo essere un pochino più bravi per le manovre che abbiamo sviluppato, specialmente 25-30 metri, nella scelta finale dove siamo stati un po' precipitosi e poco qualitativi rispetto a quelle che sono le nostre abitudini. Qui siamo mancati un po', però la voglia di fare la partita, la voglia di attaccare, di essere sempre dall'altra parte, lo dimostra anche i contropiedi che abbiamo preso per cercare di fare gol, dove il Frosinone è stato più pericoloso nelle due occasioni di Kragl e di Ciofani quando noi eravamo su un calcio d'angolo, una ripartenza, una palla lunga del portiere che abbiamo calcolato male.